Un vaccino obbligatorio sbagliato che ha tolto gli anni più belli della vita di Nicola. Oggi 21enne calabrese affetto da gravissime disabilità proprio per via della somministrazione di quel farmaco al terzo mese da quando era venuto al mondo e che non doveva essere inoculato. Una vita di sofferenza la sua e per tutta la famiglia che ora finalmente dopo anni di battaglie per vie legali si vede riconosciuti seppur parzialmente quei danni che hanno tarpato i sogni del giovane ragazzo. L'ASP di Reggio Calabria è stata infatti condannata dal Tribunale al risarcimento ma nonostante ciò ad oggi nessun cenno di riscontro è arrivato in termini di pagamenti. La paura è che al danno già provocato se ne aggiunga un altro causato dalla lungaggine dei tempi previsti per dare seguito all'esecuzione forzata per ottenere quanto statuito dal Tribunale di Locri. I familiari oggi chiedono che si ponga presto rimedio e si rivolgono alla Presidente della Regione Calabria Iole Santelli, al Commissario d'Acta Generale Saverio Cotticelli, alla Triade Commissariale dell'ASP di Reggio Calabria, Meloni, Polito e Giordano per i provvedimenti ognuno per competenza affinché si deliberi con cortese urgenza per l'applicazione della sentenza.